Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma si segnalano 4 km di coda per un incidente avvenuto al km 311 tra Firenze Sud e in Cisaregello. In direzione Bologna rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze rallentamenti per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano tra Empoli ed Empoli Est. Infine per i treni per lavori di raddoppio ferroviario fino al 31 agosto circolazione sospesa tra Pistoia e Montecatini Terme. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!